Amici, perché non per quest'anno è finita un po', andrà a via del casaleo del gigliato. E' finita, perché ci sono? Offro armi meravigliosamente lavorate, calze affinamente rifinite, anche se fosse dopo averle spargute. Posso essere un po' disorganizzato, ma... Sopportate qualche mancanza, amico. Sono sicuro di avere proprio ciò che cercate, da qualche parte del retrovotegno, forse. Posso essere un po' disorganizzato, ma conosco il mio mestiere.